Siamo resi conto che si è trattata di una scossa molto forte che si è sentita fino a Taipei e in tutta l'isola ma anche ben oltre. In missione a Taiwan come presidente della rete Città Slow International che raggruppa nel mondo circa 300 città del buon vivere, Mauro Migliorini sindaco di Asolo ha rassicurato tutti via social. La violenta scossa di terremoto che ha colpito l'isola, la più intensa degli ultimi 25 anni, magnitudo 7.4 della scala Richter, si è verificata proprio in concomitanza con la sua trasferta. In quel momento ero in aereo, in aeroporto per cui non ho sentito nulla, se non che pochi minuti dopo in cui il velivolo è stato spento è stata data la notizia che c'è stato un terremoto molto forte che si doveva un attimo attendere prima di far scendere i passeggeri dall'aereo. Migliorini si trova nel sud-est dell'isola, una cinquantina di chilometri dall'epicentro del sisma, racconta di aver avuto modo di confrontarsi con i sindaci del territorio. È previsto anche l'incontro con la città di Foglin a circa 50 chilometri dall'epicentro del terremoto. Mi hanno riferito che la zona dell'epicentro si sono registrati ad oggi, fino a poco fa, 10 morti, hanno più di 1000 feriti ed oltre 40 dispersi. L'isola tuttavia sta reagendo, lo stesso Migliorini ha sottolineato in un altro post l'efficienza dell'alta velocità ferroviaria malgrado il sisma. Nei prossimi giorni proseguirà comunque la nostra missione anche incontrando altri sindaci ed autorità locali. Il rientro previsto è per la giornata di domenica.